L'Avento ci invita a un impegno di vigilanza, guardando fuori noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi agli altri, essere svelti, non chiusi in noi stessi. Ma se noi pensiamo al Natale in un'area di consumismo, di vedere cosa posso comprare per fare quello e l'altro, di festa mondana, Gesù passerà e non lo troveremo.